CONFARTIGIANATO Unesco, la liuteria cremonese, diventa patrimonio dell'umanità. Buongiorno e bentornati all'appuntamento settimanale con il Tg di Confartigianato. Apriamo questa edizione con una buona notizia per gli imprenditori artigiani. La scorsa settimana vi abbiamo parlato del documento di valutazione dei rischi, un adempimento burocratico obbligatorio molto gravoso, arrivato all'ultimo momento che i piccoli imprenditori avrebbero dovuto affrontare in questi giorni. Nel maxi emendamento alla legge di stabilità, il Governo ha inserito un provvedimento di proroga che consente alle piccole imprese fino a 10 dipendenti di continuare ad autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi sino al 30 giugno 2013. Una vittoria targata Confartigianato che dà più tempo a oltre 4 milioni di piccoli imprenditori per familiarizzare con le nuove procedure standardizzate che slittano così a inizio estate. Il successo di Confartigianato solleva le imprese da una tempistica troppo stringente. Il debutto delle nuove regole, infatti, era previsto per il 1 gennaio 2013 e le imprese avrebbero avuto solo pochi giorni per adeguarsi. Giorgio Merletti, eletto l'11 dicembre alla guida di Confartigianato per i prossimi 4 anni, illustra al nostro DG il programma della sua presidenza per sostenere i piccoli imprenditori e accompagnarli fuori dal tunnel della crisi. Rappresentanza responsabile è la parola chiave indicata dal nuovo leader degli artigiani italiani. L'intervista di Lorenza Manessi. Presidente Merletti, lei dall'11 dicembre è alla guida di Confartigianato per i prossimi 4 anni. Dalla presidenza di Giorgio Guerrini, quale confederazione le viene consegnata? Sono 8 anni che nei migliattri ruoli comunque ho vissuto la Confartigianato, questi ultimi 4, soprattutto come vicepresidente di Vicario di Guerrini. Io credo che dall'inizio, dalla partenza 8 anni fa, si sono fatti passi veramente importanti. C'è un assoluto accreditamento come attori sociali credibili che è fondamentale rispetto alle altre parti sociali, rispetto alle forze politiche, rispetto ai governi che si sono succeduti. E questo è un dato di fatto importante. Molto si aspettano in questo momento di difficoltà, oltre 4 milioni di imprese che sono il 98% dell'imprenditoria italiana, aggiungendo ovviamente anche i nostri collaboratori. Il nostro compito è quello di andare in aiuto loro perché il momento è difficile. La sfida è importante e quando il gioco è importante bisogna darsi da fare. Ma partendo con quella base che dicevo prima, io sono ragionevolmente ottimista, devo essere ottimista perché la gente me lo chiede. Presidente, quali sono i problemi più gravi avvertiti dagli imprenditori in questo momento? Costo del lavoro e pressione fiscale fuori da ogni regola, ovvero c'è un aumento della pressione fiscale ma dall'altra parte non si vede uno sviluppo. Quindi poi quando escono i dati sulla disoccupazione giovanile soprattutto e quant'altro, è la logica conseguenza di questo. Quindi un nuovo governo dovrebbe fare come prima cosa razionale è quella di diminuire il costo di lavoro se vogliamo creare maggiore occupazione. È la cosa minimale che debbono fare. Come affronterete le sfide che attendono le piccole imprese italiane? Noi continueremo con quello che è stato portato avanti questi anni, ovvero una rappresentanza responsabile, contestare, protestare, far capire, spiegare ma soprattutto essendo propositivi. Presidente, al suo fianco lavorerà una squadra composto da tre vicepresidenti oltre ovviamente poi alla giunta esecutiva. Ce ne può parlare? Sì, io ho preso persone motivate che credono nel gioco di squadra e questo è già un dato fondamentale. In questa squadra ci sarà Claudio Miotto come vicepresidente vicari con il quale ho lavorato in questi anni e ho apprezzato il suo lavoro, Rosa Gentile con la quale ho avuto modo di conoscere negli anni passati e che ha molto ben chiaro come lavorare rispetto al sud e l'ultimo, il più giovane, che è Marco Granelli, una persona assolutamente seria con il quale mi sono confrontato in questi mesi per la preparazione del programma ma l'uomo c'è. L'edilizia tira le somme di un anno drammatico che vede tutti i principali indici al ribasso a partire dall'occupazione, dove si è registrata un'emorragia inarrestabile di posti di lavoro. Ivan de Menego. La crisi sgretola il comparto del mattone. Nel 2012 la produzione dell'edilizia ha fatto un balzo indietro tornando ai livelli di gennaio 2000. Male anche il valore aggiunto reale generato dal settore che lo scorso anno è scesa a quota 69 miliardi, addirittura al di sotto dei risultati fatti registrare nel primo anno del nuovo millennio. Si aggrava l'emorragia di posti di lavoro. D'aprile 2008 la crisi ha bruciato 609 mila impieghi. Difficoltà in tutti i comparti, dalla produzione di nuove abitazioni all'edilizia non residenziale alle opere pubbliche. L'anno che verrà si annuncia ancora difficile. È un momento drammatico e soprattutto le piccole imprese in questo momento stanno chiudendo in silenzio. Ci sono drammi familiari, sociali, interi territori che vivevano nel benessere. Oggi vivono una situazione di grande sofferenza. Ecco, noi per questo chiediamo che in futuro si riparta proprio dal settore casa, dalle costruzioni, investendo in programmi, energie e risorse per dare risposte economiche e sociali al Paese attraverso anche il settore delle costruzioni. In sostanza, qualunque maggioranza uscirà dalle prossime elezioni per far ripartire l'economia del Paese dovrà mettere al centro della propria agenda la funzione anticiclica delle costruzioni. Al primo posto tra gli interventi suggeriti da Confartigianata Neepa c'è l'allentamento del patto di stabilità. Occorre gevolare la spesa per investimenti dei comuni spiega il segretario Bastianoni e comprimere semmai la spesa corrente in maniera tale da mettere in sicurezza il nostro territorio che è esposto al rischio sismico e a quello idrogeologico intervenendo su ospedali, scuole, edifici pubblici. C'è tanto da fare per non solo rilanciare questo Paese ma anche dare lavoro al settore delle costruzioni. Nuove prospettive potrebbero aprirsi con il Piano Città una felice intuizione che aveva avuto il Governo. Il Piano prevede per i comuni la possibilità di rigenerarsi attraverso progetti pubblico-privati mirati a interventi di riqualificazione delle periferie. Il problema è che non ci sono le risorse. Se pensiamo che a fronte di tutti i progetti presentati che sono svariate migliaia ci sono solo 224 milioni anziché dei 10 miliardi che sarebbero necessari comprendiamo come questa intuizione resti molto sulla carta. Il 2012 si conclude con diverse incompiute per il settore delle costruzioni. Una in particolare riguarda i ritardi di pagamento. Ancora oggi il settore non sa se nel recipimento della direttiva comunitaria sui ritardi di pagamento siano stati inseriti anche i lavori pubblici. Rimane in sospeso pur la battaglia per dotare il settore di una legge di qualificazione professionale al fine di garantire la professionalità degli operatori e una maggiore sicurezza nei cantieri. Questi due grandi filoni sono al momento ancora lasciati per il futuro che verrà. Ci risiamo, un'intera categoria dell'artigianato rischia di passare dalle stelle alle stalle. Stiamo parlando dell'orreficeria artigiana, in festa quando dopo una serie di blitz e di scandali legati al malaffare di alcuni comprooro la politica aveva deciso di intervenire per regolamentare il settore. Ma come spesso succede in Italia, per sistemare le cose si fa di tutta l'erba un fascio imbrigliando le imprese regolari in una serie di norme e balzelli burocratici pensati per limitare l'operatività del malaffare, in particolare nella compravendita di gioielli. Allo stato attuale, infatti, il nuovo disegno di legge impone anche alle piccole botteghe artigiane dell'orreficeria di continuare a operare a condizione che soddisfino determinati requisiti di affidabilità e che diventino società di capitali controllate dalla Banca d'Italia. Il problema, però, è che le imprese del settore sono principalmente aziende individuali o imprese di piccole dimensioni che non potrebbero reggere il peso e i costi burocratici di queste nuove regole. Per questo motivo, Confartigianato Imprese si è mossa per introdurre una modifica che limiterebbe il campo operativo del malaffare che faccia realmente ordine nel settore permettendo a tante micro e piccole imprese oneste di continuare a lavorare. Per Confartigianato Orafi, infatti, basterebbe escludere dalle nuove norme le imprese che riutilizzano i materiali anche recuperati destinandoli esclusivamente alla stessa attività prevalente in altre parole l'attività principale degli orafi artigiani la creazione di gioielli. Chiudiamo con una splendida notizia che arriva da Cremona e dal più grande e prestigioso distretto della liuteria mondiale. L'UNESCO ha infatti inserito la liuteria cremonese quella del maestro Stradivari tra i beni immateriali dell'umanità. Una conquista culturale che non ha valore. I dettagli nel servizio di Fabrizio Cassieri. La liuteria cremonese ha ottenuto un riconoscimento culturale importante forse il più prestigioso al mondo. Lo scorso 5 dicembre, infatti, il Comitato UNESCO per la salvaguardia del patrimonio immateriale ha inserito il saper fare tradizionale del violino a Cremona tra i beni immateriali dell'umanità. Questo riconoscimento è un onore e un orgoglio per tutta la città e per tutti gli utai e contribuisce a far sì che la liuteria cremonese sia sempre più ben vista e ben voluta in tutto il mondo. Un riconoscimento ad una tradizione artigiana secolare che fa di Cremona la capitale mondiale della liuteria antica e moderna. Cremona è la terra promessa per i maestri liutai di tutto il mondo che arrivano in questo spicchio di Lombardia per perfezionare il proprio saper fare. Cremona è conosciuta in tutto il mondo per l'eccellenza della sua liuteria. Le sue 150 botteghe artigianali contribuiscono a diffondere in tutto il mondo l'eccellenza di Cremona. Ogni strumento a Cremona è costruito in maniera artigianale. Il processo costruttivo dura all'incirca 150-200 ore più la verniciatura. Si utilizzano i legni tradizionali della liuteria classica cremonese l'acero e l'abete. Non soltanto tradizione e storia però la liuteria cremonese ha dimostrato di riuscire a mantenere saldo il primato odierno in termini di innovazione e tecnologia riuscendo a competere con i migliori produttori mondiali dei nostri giorni. Oggi Cremona è una piazza attiva e dinamica che riesce ad onorare un passato glorioso e ad attrarre un numero sempre crescente di appassionati e professionisti del settore. Per continuare questa duplice missione Cremona sta per presentare l'innovativo Museo Cittadino del Violino. Il Museo del Violino sarà composto da varie sale espositive e soprattutto da un auditorium di eccellenza acustica progettato dal miglior ingegnere acustico del mondo l'ingegner Toyota. Ci saranno poi varie sale espositive che conterranno gli strumenti storici della collezione civica di Cremona. Cremona è quindi pronta a continuare una tradizione iniziata con quelli che ancora oggi sono i migliori esponenti della liuteria mondiale promuovendo il saper fare artigiano, le tecniche e i materiali della tradizione ma anche e soprattutto un futuro che vuole confermare Cremona come il più grande tesoro liutaio del nostro paese definito dall'UNESCO un vero e proprio patrimonio dell'umanità intera. Bari fino al 25 dicembre Magico Natale 2012 nel cuore del capoluogo pugliese mostra mercato dell'artigianato artistico e alimentare organizzata da Confartigianato Provinciale Chieti fino al 6 gennaio a Natale compra in città campagna di sensibilizzazione di Confartigianato per promuovere gli acquisti nei negozi del centro storico. Siamo in chiusura e come sempre è il momento di vedere insieme le rilevazioni dell'ufficio studi di Confartigianato nella nostra rubrica Il numero della settimana 79 è il valore in miliardi di euro dei debiti commerciali accumulati dalla pubblica amministrazione nei confronti dei fornitori di beni e servizi. Ed è tutto per questa settimana e per quest'anno Da tutta la redazione i migliori auguri di buone feste e buon anno nuovo L'appuntamento è per lunedì 7 gennaio con la prima edizione del TG per il nuovo anno Auguri!